Per il settimo seminario della Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises abbiamo il piacere di accogliere qui a Catanzaro il professor Don Bruno Bordignon. Benvenuto professore Bordignon. Vado a presentarvi le esperienze di Don Bruno Bordignon. Ha conseguito il dottorato di ricerca in teologia presso l'Università Pontificia Salesiana e la laurea in lettere presso l'Università La Sapienza di Roma. Dal 1987 si è occupato delle scuole salesiane d'Italia. Dal 2005 al 2012 è stato visiting professor presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Salesiana. Dal 2012 è membro dell'Istituto Storico Salesiano e caporedattore della rivista Ricerche Storiche Salesiane. Ha fatto parte di numerosi gruppi di ricerca tra cui il gruppo di lavoro ministeriale per la valutazione, il comitato scientifico dell'Invalsi, il working group interdisciplinare presso il centro studi dell'Invalsi, il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ed infine del gruppo di lavoro per l'individuazione degli indicatori di efficacia per l'accreditamento dei corsi di studio. E' membro del comitato scientifico e senior fellow del centro Tocqueville Acton. E' autore di numerosi saggi, monografie e libri che testimoniano i suoi studi di lunghissimo corso e di lunghissima data. Con lui iniziamo con una domanda a questo nostro incontro. Al professore Don Bruno Bordignon chiediamo, esiste un filone di pensiero che tenta di coniugare fede e mercato? Qual è la sua opinione in merito? La mia opinione è che dobbiamo riscoprire il Vangelo perché è proprio lì che si trova questo. E' che il mercato è proprio il modo per cui una persona può svilupparsi e quindi bisogna fare che le persone non ricevano l'elemosina, ma che siano aiutate a realizzarsi e a sviluppare la loro imprenditorialità. Questo è avvenuto con i francescani, San Francesco d'Assisi e un po' lo sviluppo del pensiero e del comportamento francescano. Si è sviluppato poi nella seconda scolastica perché molte delle teorie che abbiamo anche, che oggi sono cosiddette liberali, vengono anche di là. Ricuperate poi la scuola austriaca e invece è stato bloccato questo sviluppo dall'illuminismo, la rivoluzione francese e poi lo sviluppo del socialismo con la reazione poi successiva di personaggi come Rosmini, come Don Sturzo, come Repke e altri insomma che hanno visto da un punto di vista cristiano cercato di reagire contro la visione di Stato, di Rousseau, poi che si è sviluppata con l'evoluzione francese e anche contro la visione marxista, socialista in generale. In merito alla definizione del diritto, del ruolo dello Stato rispetto al diritto individuale, Rosmini dà una definizione molto interessante. Sì perché praticamente dice che la persona ha il diritto subsistente, la persona è umana, quindi praticamente toglie ogni visione di diritto affidata allo Stato e perché lo Stato non è a fonte di nessun diritto, lo Stato fa le leggi per difendere i diritti delle persone. Questo è fondamentale e praticamente è una rivoluzione copernicana in base al modo di pensare di allora. Con Don Sturzo, che è un'altra delle figure centrali della sua trattazione nel corso della lezione odierna e del cattolicesimo liberale in generale, affrontiamo anche un altro importante tema che è quello del sostegno all'imprenditorialità che si ascrive allo Stato, vero? Più che sostegno all'imprenditorialità direttamente parlando, mi sembra che si deve dire che lo Stato deve non intervenire perché se io prendo, non so, forse la persona che ha sviluppato meglio questo discorso è stata Ludifon Mises perché parla dell'azione umana e vedo anche che Don Sturzo ha capito molto bene il discorso perché dice che quando lo Stato interviene limita non solo l'attività economica ma anche lo spirito delle persone cioè le rende meno libere. Invece lo Stato deve permettere alla persona di realizzarsi quindi deve semplicemente togliere tutti quei limiti che impediscono le persone di essere effettivamente libere e di realizzare pienamente l'imprenditorialità. Quindi deve favorire l'imprenditorialità a tutti i livelli non solo a livello economico ma anche a livello di capacità umana, di tutte quelle che sono le competenze che uno deve per svilupparli fino in fondo. Cioè siamo esattamente la posizione opposta che abbiamo oggi basta vedere se c'è un'università che pensa ad investire le competenze dei studenti in relazione al lavoro futuro io non ne trovo di questi perché purtroppo ho avuto esperienze molto negative a questo riguardo. Parliamo di promozione umana quindi e su questa scia il tema della scuola è un tema che il cattolicesimo liberale come prima accennava ha affrontato in maniera molto seria. Ci parli anche di questo Don Bruno? Il problema della scuola è dovuto al fatto che, per dirla con la parola povera, come dice Judy Craig, un ebrea degli Stati Uniti, i fini conti vogliono le menti dei nostri bambini. Han preso la scuola per poter dare un tipo di impostazione di vita che sia secondo il consenso che lo Stato vuole. Quindi è stata presa in mano dallo Stato per ottenere il consenso ai governanti. Quindi sono loro che poi impongono le visioni che loro interessa. E di fatto se c'è una cosa libera nella persona è proprio che deve essere libera il diritto all'apprendimento perché l'apprendimento, dato che noi con la conoscenza possiamo giudicare ed essere liberi, l'apprendimento è il punto fondamentale per poter essere liberi. Ora, se uno è plagiato quando apprende e non ha la libertà di un progetto di apprendimento, noi non siamo più liberi e gli Stati hanno praticamente costruito un progetto di apprendimento a tutti gli studenti per cui non sono liberi. Noi crediamo di essere liberi, ma già pensiamo in un determinato modo perché già c'è stato costruito in quel modo e non è stato costruito liberamente per scelte personali, ma perché ci hanno detto devi imparare questo, ripetere questo, eccetera. Quindi in Italia siamo arrivati al punto che negli ultimi 40 anni, se non di più, forse dagli anni 60, siamo andati proprio verso una idealizzazione delle scuole, cioè l'aspetto semplicemente teorico e basta, tolto tutto il riferimento con le imprese, con l'esempio classico. L'Istituto Professionale di Stato, 40 ore, 3 anni, 20 ore di lezione e 20 ore di laboratorio. Siamo arrivati a 5 anni per preparare l'esame di maturità e quel progetto 92, 40 ore di lezioni frontali. Questo è proprio l'abuso. Arriviamo proprio per dare seguito a quanto lei sta dicendo, spesso in età adulta senza avere acquisito strumenti critici. In questo senso si inserisce una scuola come quella del liberalismo, Ludwig von Mises. Che cosa pensa della formazione continua che proprio attraverso scuole di questo calibro può essere portata avanti? Io direi due cose. Primo, che la formazione deve essere continua per tutti. Per cui non è che si fa... Ma chiaramente, se non comincia a essere libera con un progetto libero fino a quando sono bambini, perché bloccare i bambini all'età di 2-3 anni vuol dire poi bloccarli per sempre. Quindi non è... E quindi deve essere libera a quel livello lì. Ma deve continuare poi tutta la vita. Nessuno, come si dice, usa un termine improprio, ha imparato. Continuamente sviluppiamo le nostre competenze. Ma poi il discorso della scuola di liberalismo è fondamentale perché non abbiamo una vera visione del liberalismo in Italia. Né in campo cattolico, né in campo dei vari partiti politici. Non sanno parlare. Secondo una visione della scuola austriaca, per dire, per intenderci, vuol dire essere una persona che viene poi gottata, viene presa di mira, perché queste cose non sono concepibili. E vengono interpretate tutte negativamente. Mentre invece ritengo che sia questo il modo di formare, fin da bambini e poi tutti quanti, per questa visione di libertà. Come riassumerebbe, per concludere l'attualità nel XXI secolo di due grandi pensatori dell'Ottocento e del Novecento, quali sono stati appunto Rosmini e Sturzo in Italia? Direi che la lotta che loro hanno fatto deve essere continuata e sviluppata seguendo quello che loro hanno indicato. Proprio questo apprendimento continuo. Noi dobbiamo continuare sulla loro strada, sulla loro scia, per sviluppare quello che hanno proposto. E per realizzarlo, perché praticamente noi troviamo che non è realizzato né in campo cattolico né altrove. e quindi anche proprio fare sì che anche all'interno della Chiesa ci sia lo sviluppo proprio dell'imprenditorialità. Perché se c'è uno che ha insistito su questa imprenditorialità, è proprio il Signore, se voi leggete quello che dice la parola dei talenti, dà una condanna tremenda a quello che ha conservato e ha restituito quello che ha ricevuto. Se abbiamo capito qualcosa del Vangelo, dovremmo a un certo punto dire cominciamo a metterlo in pratica. Grazie Don Bruno. Grazie. 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 Grazie.